Buon pomeriggio, buon venerdì amici, un'altra giornata letteraria, un altro lungo lungo lontano viaggio. Oggi nel ciclo leggiamo le poesie ai tempi del coronavirus, vi porterò verso le lande del lontano oriente. Ci fermeremo in Cina, paese di grande cultura, grande tradizione, anche di tante polemiche, sia culturali che quelle politiche. Vorrei presentarvi le poesie di Lu Xiong. Ovviamente mi scuso per la lingua cinese perché non conosco il cinese, allora posso fare qualche errore. Però farò del mio meglio. Lu Xiong, nato a Shaoxing, 25 settembre 1881, è scomparso a Shanghai, 19 ottobre 1936. È stato uno scrittore, un poeta cinese. È il figlio primogenito di una famiglia feudale in decadenza, considerato il fondatore della lingua cinese moderna. È proprio di Lu Xiong, vorrei leggere tre testi. Primo, intitolato, dedica su una piccola fotografia. La torre sacra, senza scampo, esposta alle frecce dei dèi, oppresso da un macigno nella pioggia, nel vento l'antico giardino. Guardo alle fredde stelle che il mio popolo ignora. Offro il mio sangue in sacrificio a Xiong. Il secondo testo intitolato «Separazione dei fratelli». Per vivere bisogna correre tutto il giorno. Noi, fratelli, siamo costretti a separarci. E la cosa che era trista maggiormente è la lampada solitaria in una lunga notte di pioggia. Ritorno a casa, ma per poco parto di nuovo. E la sera aggiunge maggiore dolore. Gli innumerevoli salici lungo la strada sono l'immagine della sofferenza. Ci separano sempre per un anno. Per mille lì. Il vento porta la nave del viaggiatore. C'è una parola che va ricordata. Nello scrivere il successo non dipende dal cielo. Il lì è un'unità di misura corrispondente a circa 500 metri. Tanto per un po' di chiarimenti. Testo tratto da Ballate del dissenso. Traduzione di Paolo Galvani su poesia anno quinto, ottobre 1992, numero 55, Crocetti, editore. E la terza poesia. Sogni. 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 orario. Ciao tesori!